Sempre per telefono.net, P960, il nuovissimo DVDH di Samsung, un display da 2,6 pollici, 260 mila colori, come vedete la televisione si prende davvero bene, abbiamo un'antenna che fuoriesce dal slot laterale e il telefono è fondamentalmente uno slide phone, come possiamo vedere la tastiera completamente metallica, quindi finiture davvero buone, cam da 3 megapixel, insomma un telefono che speriamo gli operatori italiani importino perché sembra un ottimo terminale.